Ristoro da Peppino, arrosticini, carne alla braccia, bistecche, salumi, formaggi, prodotti tipici, area picnic e area giochi bimbi. Il venerdì, sabato e domenica si balla con musica dal vivo. Ideal Beauty Center, centro estetico e di dimagrimento con macchinari di ultima generazione. Novità estetica dell'anno, viso Isojet e Body Mix. Ad Orsogna e Lanciano, telefono 0871 86 91 76. Farmacia, dottoressa Farina Loris, omeopatia, dermocosmesi, fitoterapia, veterinaria, dietetici, paidofarmaci, professionalità, competenza e cortesia. In Corso Umberto I, 18 Barra, Villa Santa Maria. Ristorante Il Gambero Rosso, cucina mediterranea con prodotti freschi certificati a base di pesce e carne. Ristorante Il Gambero Rosso, in via Tobagi, 6 Barra e San Salvo. Telefono 0873 802 546 www.ristoranteilgamberorosso.com Associazione sportiva TFA Tornei Flipper Agonistica Organizzazione di eventi legati ai flipper e calcio balilla Prossimo evento, ottobre, a Lanciano. A due passi dal centro termale Hotel De Nardis. Camere doppie, singole, triple, complete di servizi igienici privati. All'esterno, splendida terrazza relax. L'Hotel De Nardis è anche il ristorante con cucina abruzzese, specialità italiane e ricette internazionali. Hotel De Nardis, Viale Roma 42, Caramanico Terme www.denardishotelcaramanico.it Telefono 085 92472